Per Aspera ad Astra, che significa letteralmente attraverso le difficoltà si può arrivare alle stelle, è il progetto sostenuto dalla Fondazione Tercas di Teramo all'interno della casa circondariale di Castronio. Si tratta di un percorso professionalizzante curato dall'ACS Abruzzo Circuito Spettacolo per insegnare i mestieri del teatro in carcere. All'iniziativa hanno aderito 30 detenuti della sezione Alta Sicurezza, il più giovane ha 24 anni, il più anziano 72. Sappiamo quanto sia importante per la popolazione detenuta acquisire delle abilità da poter spendere poi una volta tornati in libertà. Il corso nello specifico riguarda i mestieri del teatro, quindi possono apprendere tutto ciò che si svolge all'interno del teatro, dal fonico, dal tecnico, quindi per l'uso delle luci, ma anche il costumista e pertanto anche il sarto, e tutto ciò che può portare poi alla messa in scena di uno spettacolo. Il progetto per Aspera d'Astra è attualmente in corso in 14 carceri italiane, coinvolge circa 250 detenuti e nasce da un'idea dell'ACRI, l'associazione di fondazioni e di casse di risparmio. Il fine ultimo è quello di riconfigurare il carcere attraverso la cultura e la bellezza. Il teatro diventa così uno strumento perfetto di riabilitazione. Le fondazioni hanno come prima vocazione colloquio col territorio, e quando si ascolta il territorio se ne ascoltano tutte le voci, le fragilità, i punti di forza, con il massimo rispetto e la massima accoglienza per tutti i vissuti che il territorio raccoglie. Ecco, ci sembrava impossibile ignorare una realtà macroscopica come l'Istituto di Castrogno. Ci piaceva aprire questa finestra sulla bellezza, su una bellezza che è una scoperta per molti degli ospiti di Castrogno. Vedere la bellezza dove non l'hanno mai vista, vedere i propri potenziali dove non l'hanno mai conosciuti. Noi studiamo nella psicologia delle attitudini che i ragazzi scoprono le loro potenzialità quando vengono messi nella condizione appunto di sperimentarsi. Molti di questi ospiti non hanno sperimentato nella loro vita mai null'altro che la violenza o le situazioni di fragilità o di povertà culturale. Ecco, volevamo offrire una nuova occasione per rivedere la propria vita e magari scoprire appunto la bellezza dove non l'hanno mai trovata. Inoltre, al termine del percorso di formazione professionale, i detenuti di Castrogno reciteranno la pièce di Samuel Beckett Aspettando Godot, a dimostrazione che il teatro è comunità, non è un edificio, ma è la gente che lo abita. In questo caso anche un carcere di massima sicurezza può trasformarsi in un'oasi di libertà. Grazie. Grazie.